bentornati in questo nuovo video oggi vi portiamo in giro nelle vie di paleocora che era la località più vicino al nostro alloggio un po più piena di vita e anche piena di locali visto che la giornata non era non prometteva bel tempo abbiamo deciso di guardarci un po intorno e visitare queste vie tipiche greche vi lascio alle immagini grazie a tutti 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 e anche questa sera sono riuscita a farmi portare al nostro ristorante preferito quello dietro casa e anche questa sera abbiamo preso dell'agnello con le patate buonissimo e poi un piatto tipico greco che è una specie di couscous molto aromatizzato degli anelli di totano fritti con le patate e poi come sempre ci è stato offerto il dolce buonissimo quello di questa sera il liquore e la frutta buonanotte